Pioggia di fuoco su Gaza, aeree e carri armati israeliani colpiscono 150 obiettivi. L'invasione è imminente da Mas 2000 razzi su Gerusalemme e Tel Aviv. Matteo Salvini assolto a Catania dall'accusa di sequestro di persona nella vicenda della nave Gregoretti. Per il CUP Nuzio-San Pietro il fatto non sussiste. Perde forza il virus, nessuna regione ha rischio alto, RTA 086 e l'incidenza crolla a 96 casi su 100.000 abitanti. Italia monocromatica con l'incognita Val d'Aosta. Papa Francesco è premio Draghi assieme agli stati generali della natalità. Senza figli non c'è futuro ed il Pontefice apprezza l'assegno unico per i figli dal 2022. Oggi è click day per incentivi e gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto. 61 milioni per acquistare autoveicoli a trazione alternativa.